Ok, professore, qual è il rapporto tra la tecnologia e la filosofia all'interno di un festival della filosofia? Allora, questo rapporto si coglie bene proprio nel momento in cui noi proviamo a declinare la robotica con l'intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza artificiale, come ben sappiamo, riguarda la capacità di un computer di riprodurre il funzionamento e le logiche della mente umana. La robotica dà corpo all'intelligenza artificiale, come presenterò questo pomeriggio qui al Castello Ducale. E allora, nel momento in cui noi vogliamo considerare quelle che sono le implicazioni sociologiche, filosofiche, posso anche dire, da un punto di vista etologico, religioso, dell'utilizzo dei robot nella nostra società, non possiamo prescindere da quella che è l'azione fisica. Ed è in definitiva l'azione fisica che distingue un robot da un computer. Quello che vedete qua è una mano, è una mano antropomorfa, che in qualche modo vuole replicare la destrezza, la manualità e la duttilità di una mano umana. Questi sono ancora dei prototipi, perché qua non siamo ancora a livello della tecnologia delle braccia. E allora, come illustrerò stasera, il senso del tatto della manipolazione è quello che ha consentito all'uomo di interagire col mondo esterno anche più della stessa vista. Una persona cieca è in grado di vivere una vita normale, a tutti gli effetti, tastando, palpando. Quindi, diciamo, la manipolazione è proprio il confine, il passaggio tra tutto ciò che è di cognitivo, che riguarda la mente umana, l'intelligenza artificiale, e quello che caratterizza la fisica, la realtà, l'azione, il movimento di un sistema robotico. E allora io vedo molto di buon grado queste occasioni, come mi piace chiamarle, di contaminazione di saperi. Perché? Perché la robotica ormai è una tecnologia matura a tutti gli effetti che si è sviluppata in questi 50-60 anni. Ogni progresso ulteriore in questo settore non sarà all'interno della nostra comunità tecnologica, ma sarà, diciamo, all'incrocio della robotica con le neuroscienze, con la biologia, con la medicina, con la filosofia, con le scienze sociali, con le scienze giuridiche. E quindi, occasioni come queste, di forte contaminazione tra tecnologia e filosofia, sono proprio quelle che potranno portare a un ulteriore avanzamento della robotica, al di là dei confini della tecnologia e dell'ingegneria. Grazie.